Il Dipartimento di Economia ha sempre cercato di trovare un rapporto con il tessuto lavorativo e quindi è stato importante proprio creare queste borsi di studio in modo tale che i nostri studenti possano andare dentro le aziende, possano rendersi conto di che cosa vuol dire partecipare a un progetto lavorativo e quindi contribuire sia con le loro conoscenze ma anche acquisire delle competenze che dentro l'università è difficile fornire. Come è nata l'idea di questa convenzione con la CNA? È nata proprio per creare un rapporto fra l'università e il tessuto produttivo del nostro territorio. Presidente, questi protocolli servono soprattutto per avvicinare il mondo delle imprese agli studenti, al sapere, all'università? Per dare maggiore completezza a quelli che sono gli studi che poi questi giovani andranno a fare ma anche per avere una visione nostra delle piccole imprese e per quello che è il nostro mondo. In quanto noi abbiamo in questi anni subito una grave crisi, abbiamo la necessità di rivedere anche qual è il nostro ruolo sia a livello economico sia a livello sociale e quindi abbiamo bisogno di confrontarci soprattutto con la scuola, anche con il mondo economico e con il mercato ma soprattutto con la scuola che è un mondo pieno di idee in continua evoluzione che può darci la scuola una visione diversa degli indirizzi verso i quali noi possiamo avviarci per i prossimi anni.